Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al concerto della Banda Città di Mantova in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Io sono Ivan Campanini, presidente di questa associazione e ringrazio tutto il pubblico presente oggi numeroso che è venuto a seguire il nostro concerto. In particolare ringrazio l'amministrazione comunale di Mantova che da più di 30 anni ci dà la possibilità di esibirci in queste occasioni, rappresentata qui oggi dall'assessuale al welfare Andrea Caprini. Ringrazio anche il perfetto di Mantova, dottor Sandro Lombardi per la sua presenza tra il pubblico. Quest'anno per noi ricorre il nostro 35esimo anno di fondazione, 35 anni di attività presenti sul territorio che celebreremo in occasione di uno dei principali appuntamenti mantovani al quale noi siamo particolarmente legati, il Festival Letteratura 2018. Questa presenza sul territorio è resa possibile grazie anche a tutti i nostri musicisti e collaboratori che si prestano in maniera volontaria alla realizzazione degli eventi. Inoltre oggi avremo il piacere di avere con noi anche la cantante Donata Luani che da molti anni... Donata Luani che da molti anni ci accompagna nei nostri spettacoli e che ringrazio della sua partecipazione. Ringrazio infine il direttore della banda Le Sartoni che ha arrangiato e preparato tutto il repertorio. Grazie. Prima di iniziare con la musica inviterò in squadra vicino al palco l'assessore al welfare Andrea Caprini e il perfetto dottor Sandro Lombardi per un saluto a tutta la cittadinanza. Grazie. Grazie, grazie Ivan. Buongiorno a tutti. Vi porto il saluto del sindaco e dell'amministrazione. Ringrazio il prefetto anche della sua presenza qui oggi. È sempre una giornata importante, in me c'è sempre anche una grande emozione perché credo che oggi siamo qui veramente per ricordare, come tutti gli anni, quei valori fondamentali che il 25 aprile rappresenta e che sono quei valori che poi, come ha ricordato anche il sindaco nel discorso stamattina, sono stati tradotti nella nostra Costituzione. E cioè quegli ideali di libertà, di giustizia, di pace, di responsabilità sociale e civile. Ringrazio davvero tutti i cittadini che sono qui oggi. Ringrazio in particolare la nostra banda, la banda Città di Mantua, che tutti gli anni regala alla città questo concerto. Credo che meritino davvero un grosso applauso. Ringrazio in particolare il maestro Alessio Artoni che mi rende disponibile. Buon 25 aprile a tutti. Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti numerosi a questa manifestazione. Penso di rappresentare tutte le istituzioni di questa città e in questo momento vi dico grazie perché oggi è un giorno particolare e una location migliore di questa, con il tempo che ci assiste, non si poteva avere. Avere questo colpo d'occhio su questa piccola bomboniera e vedere tanti volti, giovani e meno giovani rincuora il cuore, così come rincuora il cuore sentire l'inno d'Italia. Ma chiedo uno sforzo particolare, soprattutto alle persone più anziane. La banda oggi ci additerà con la sua musica per sottolineare l'importanza di questo giorno. Il 25 aprile è il giorno dell'esistenza, il giorno della liberazione dal nazifascismo. Quindi voi che avete qualche capello bianco, avete un obbligo morale di spiegare ai ragazzi giovani, che vedo numerosi in questa piazza, dove si stanno incontrando non solo la cittadinanza di Mantua, ma anche gli ospiti e i turisti che affollano oggi le nostre strade. Spiegate il significato di questa giornata, che la musica serve solo per sottolineare l'importanza del significato del 25 aprile. Questa è l'unica cosa che vi chiedo. Se volete tramandare e passare il testimone alle generazioni future, che magari lo leggeranno sui libri di storia, ma se c'è qualche nonno, qualche zio che si sforza di spiegarglielo direttamente, otterremo sicuramente un importante risultato a tutela dei principi costituzionali per i quali molti dei nostri nonni e zii sono morti per farci stare democraticamente, come oggi in questa piazza, a sentire la musica della banda cittadina. Buon concerto a tutti! Un'ultima cosa, prima di iniziare, finito il concerto, per chi volesse abbiamo decidi ad offerta libera realizzata in occasione del nostro 25esimo anniversario. A questo punto lascio la parola a musica con la banda città di Mantua. Buon 25 aprile a tutti, grazie e buon ascolto! Grazie! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.